Caterina siamo in onda Caterina Caterina Io La posso mettere su internet? Si o no? Si Avviso scoperto Cantiamo esse domani di me Aspetta E se domani Io non potessi Rivedere te Tu canta La donna di tattua Mettiamo il caso Che ti sentissi Stanco di me Bello che tu fai alto Per un basso Quello Che basta All'altra Gente Non mi darà Nel meno Lombra Della perduta Felicità E se domani E sottolineo se All'improvviso Perdessi te Avrei perduto Avrei perduto Il mondo Intero Non solo te E se E se domani Io non potessi Rivedere te Mettiamo il caso Che ti sentissi Stanco di me Quello Quello che basta All'altra La gente La gente Non mi darà Non mi darà Nemmeno l'ombra Della perduta Felicità 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 E se domani E sottolineo se All'improvviso All'improvviso Che perdessi te Avrei perduto Avrei perduto Il mondo Intero Non solo te Un applauso Un applauso spontaneo Un applauso spontaneo La possiamo mettere su YouTube? Ok posso? Ti sei divertita? Ciao saluto agli amici del Duca Ciao amici del Duca Un applauso